mi sento toccare l'acqua se vuoi fallo anche fallo a toccare l'acqua cena aspetta però vale solo nello scivolo perchè io ho problemi ok vai mi sento toccare l'acqua vai Samuel a me è impossibile non toccare l'acqua no è impossibile a me è impossibile non riesco no raga è impossibile non ho fatto neanche un dritto aspetta aspetta oh no no che cosa stavo facendo e no niente su una metamappa su una metamappa e non l'ho toccata eh no io non l'ho toccata no no l'ho toccata io non mi qualifico proprio ma dai però che caro raga non l'ho toccata mi sono qualificandola vi giuro vi giuro vi giuro raga l'ho fatto tutto tutto raga l'ho fatto tutto vi giuro vi giuro su chi volete l'ho fatto tutto senza toccarlo è bella a tutti ragazzi oggi ragazzi siamo qui per un ringraziamento grazie a voi che vi siete iscritti grazie a voi che vi siete iscritti